Gli ha detto che il giulio è raffreddato? Gli ha detto che il giulio è prima? Porto un escaronato Perché vedo che l'impostazione sta trasformato visto che è un giulio fuori peso Oggi, vedo il giulio di spaglia per il giulio e poi si riuscita i miei vini, grazie come le pare qui bua 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 bua